Carissimi amici di Malta, sono veramente molto molto contento, pensate, dopo 11 anni di assenza, di tornare in mezzo a voi. Veramente questa volta sarò non solo in veste di cantante, ma soprattutto in veste di conduttore. Insieme a me ci saranno, pensate, 14 artisti italiani in questa grandissima serata che per la prima volta in assoluto abbiamo denominato, abbiamo intitolato Notti Italiane a Malta. Mi raccomando e vi aspetto in moltissimi, saremo tutti quanti insieme al Mediterranean Conference Center di Valletta il 12 e 13 dicembre. Non mi deludete, vi aspetto tutti quanti maltesi a questo grande spettacolo, anzi questi due grandi spettacoli. Ciao da Pupo!